Due parole guidano l'omelia del Papa nella messa del mattino a Santa Marta, scegliere e piccolezza. Noi, ha affermato Francesco, rifacendosi alla prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio, in cui Mosè manifesta la volontà di Dio di costituire Israele come suo popolo, non abbiamo scelto di seguire Cristo, ma è Lui che ha scelto noi, legandosi in modo indissolubile alla nostra vita, immischiandosi nel nostro cammino, quasi da diventarne prigioniero. Ci ha scelti per amore e rimane fedele sempre, ha aggiunto Bergoglio, sostenendo che è proprio l'essere prescelti da Dio che definisce la nostra identità. Altro concetto, la piccolezza, condizione fondamentale per entrare nel cuore di Cristo e vedere la sua gloria manifestarsi attraverso di noi. Lui si rivela ai piccoli. Se tu vuoi capire qualcosa dal mistero di Gesù, abbassati. Fate piccolo. Riconosce di essere nulla. E non solo sceglie e si rivela ai piccoli, ma chiama ai piccoli. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Io vi darò il ristoro. Voi che siete più piccoli, per le sofferenze, per la stanchezza. Lui sceglie i piccoli. Si rivela ai piccoli e chiama ai piccoli. Ma ai grandi non li chiama, il suo cuore è aperto, ma la voce non arriva ai grandi. Sono pieni di se stessi. Per ascoltare la voce del Signore bisogna farsi piccolo. Ricominciare da qui, dal mistero di Dio che ci ha salvati con la sua fedeltà, ha concluso il Papa, è fondamentale per celebrare nel cuore i grandi misteri della salvezza, la fede in primo luogo nocciolo della nostra vita. Grazie.